Girava il scooter con un chilo di cocaina nel portafoglio. In manette è finito Aldo Solfrizzi, 23 anni e incensurato di Taranto. I carabinieri, in abiti civili durante un quotidiano controllo finalizzato alla repressione dello spaccio di droga nel quartiere Tamburi, hanno fermato il giovane in via De Ledda mentre era alla guida del suo motorino. L'alte intimato dai militari ha messo in agitazione il ragazzo, tanto da imporre alle forze dell'ordine una manovra fulminea per bloccare il motociclo. Solfrizzi conservava nel borsello un involucro ben sigillato con nastro adesivo contenente un chilo di coca purissima, il cui valore è stimato intorno ai 100.000 euro. Il 23enne è stato condotto presso il carcere di Taranto. La legge del Rio manda a casa la cultura. Dal prossimo primo aprile tre dei musei provinciali di Foggia rischiano di essere cancellati dal panorama culturale pugliese, a causa dei tagli imposti dalla riforma alle province italiane. La chiusura dei tre importanti centri metterà alla porta 31 dipendenti a tempo indeterminato e part-time dopo 20 anni di servizio. A rischio di chiusura anche l'osservatorio turistico provinciale e l'Infopoint, che hanno sempre rappresentato un valido strumento di promozione del territorio. Sparatoria in Viale della Resistenza a Bari. L'agguato, avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, ha lasciato ferito Michele Leti, 21enne, già nota alle forze dell'ordine per ricettazione e spaccio di stupefacenti. Ancora non è chiaro se chi ha sparato volesse uccidere Leti o soltanto ferirlo. Il giovane si è presentato al policlinico di Bari, conferito al braccio destro e alla caviglia sinistra. Le sue condizioni non sono gravi. Sull'episodio indagano gli uomini della squadra mobile della questura di Bari. Stalking nei confronti della ex moglie. Convalidato l'arresto al 39enne Brendisino, che lo scorso 3 marzo era stato sottoposto ai domiciliari dei carabinieri di Latiano. L'uomo perseguitava la coniuge da settimane, con minacce e molestie, procurandolo uno stato di ansia e paura. Si recava ogni giorno in comunità, dove la donna era rifugiata, per rendere la vita impossibile. Le indagini sono iniziate dopo le segnalazioni della vittima ai militari dell'arma. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Brindisi-Casale.